Finalmente oggi avete riaperto dopo due mesi e mezzo di stop, come è andata questa prima giornata? Questa prima giornata è andata bene, noi in particolar modo abbiamo aperto già più di un mese fa perché avendo articoli da bambino e quindi avendo la necessità, le future parti orienti di dover fare Corredino abbiamo aperto anticipatamente, oggi c'è sicuramente più movimento perché tutti i negozi, tutte le attività sono aperte. A primo impatto abbiamo visto che comunque c'è entusiasmo, almeno in questa prima giornata c'è entusiasmo. Cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo che tutto torni alla normalità come abbiamo lasciato alla fine. Sono venuti già i primi clienti oggi? Sì, sì, fortunatamente sì. Ho detto c'è stato un bel approccio, c'è entusiasmo, almeno quello che si vede dalla prima giornata, dal primo giorno. Sì, oggi ci sono state le mie clienti storiche che non vedevano l'ora di incontrarci, quindi anche di poterci almeno guardare perché lo sguardo oggi è quello che viene più impresso nel cuore. Immagino che avete anche molta merce in venduta, della collezione vecchia e ora avete sicuramente integrato con l'abbigliamento estivo. Allora, della collezione vecchia, diciamo, quello che non si è venduto è un discorso tutto legato alla cerimonia e anche altre ricorrenze come le comunioni, i battesimi che sono stati spostati per il 2021, se non erro. Altri invece, se si faranno, si faranno ad ottobre e novembre. Allora, a livello nazionale credo che i saldi siano in ogni caso slittati al primo di agosto piuttosto che ai primi di luglio e speriamo che le cerimonie si possano fare nei primi mesi autunnali in modo da poter sopperire, in un certo senso, alle perdite avute con la chiusura forzata. Voi quali procedimenti avete adottato per mantenere la vostra attività secondo le norme previste dal governo? Allora, igienizzanti in ogni stanza, con la loro colonnina apposita, due persone per volta, in realtà su appuntamento in maniera da poterci organizzare. Abbiamo un registro dove scriviamo anche i nomi e cognomi di chiunque entri in negozio per monitorare tutto e abbiamo tantissima cura anche per l'igiene dei capi. Abbiamo uno stendino apposito dove posizionare i capi che ognuno ha provato e che non acquista, ovviamente, che igienizziamo ogni due ore. Grazie.